che sarebbero dannosi sia per l'ambiente stesso che per la salute dell'operatore e qui puliamo le butelle questo Grazie a tutti. Grazie. 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 Ok, adesso, siccome me li devo mangiare, sa che fanno una pietra, li apri. Così. So che non lavati, come dico io. Ecco qua, come nello pietro, avrò le budelle del Añelo. Abbiamo aperto quest'altro. Ecco qua. Ecco qua mi schiare, senza voi. Ecco qua. 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 E poi qua. Ecco qua. Ecco qua. Grazie. Grazie. Questi li stiamo preparando per fare mattacorte, torcinelli e stigliole. Saranno una cinquantina di metri. Il caro cugnato Luigi mi mangia cinquanta metri di torcinelli che ci mangiavano a Larino, alla faccia di chi ci vuole male. Non vanno alla faccia di nessuno perché ci vogliono tutti bene. No, qua viene qua. Ora vedremo per il buco, qua. 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 Qua fa. Lavoro, comeывает. Bene, questo ve l'ho fatto vedere come si fa. Più, molto facili. e questo dovrebbe essere vabbè questo è un pezzettino questo è un altro pezzettino non buttiamo niente noi pure le botelle ci mangiamo si vede? ecco qua abbiamo finito ci hai messo acqua qui dentro? ecco qua questi sono tutti e rimane ok questi sono nell'acqua limone e bicarbonato invece dell'aceto e qui ok 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 ok